Ciao! Vorrei condividere con voi gli studi di questo rudimento molto interessante chiamato Double Paradiddle Diddle. Tutti noi conosciamo il Double Paradiddle e sappiamo che sono un gruppo di sei note. Nel Double Paradiddle Diddle vengono aggiunte due note in coda al rudimento. Queste possono avvenire con la mano destra o con la mano sinistra. Grazie a tutti.